good morning si qui praticamente sono le 10 e mezza e come dico in questi casi certo non proprio una mattina prestissimo una mattinata inoltrata ma comunque mattina mister master maestro oh semplicemente oh semplicemente david lynch it's me 25 2022 and it's a wednesday it's a wednesday once again it enables a clear clear morning in this moment very still right now 84 and so far and at around 29 celsius this means that it's that they really 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 soft like this doesn't disappear and also because it seems more a summer climate and then spring climate and today that really really this uh d'altra parte stiamo andando verso giugno we go to john and this is normal as a regard the video to it as always is separate from this so in the case you are interested eyes open anyway i see and you all just see from the window i think i think if i don't know temperate potrebbe ancora salire secondo me di sicuro si mantiene sullo stesso livello ma anche salire ovviamente non c'è mai dei maghi su questo vedremo batta the really important thing with disatmosia mi ti ho detto today we have today we have those beautiful those beautiful those beautiful those beautiful those beautiful blue skies and golden sunshine i think all along the way ovviamente qui all along the way sempre qualcuno è meno rispetto a voi intendo soprattutto gli amici americani perché come sapete abbiamo un orario completamente diverso bene speriamo di trend che va già da ieri speriamo di continuare così anche domani e giorni successivi tra l'altro come sapete pochi giorni fa abbiamo avuto un trend di una settimana totale di sole per cui possiamo continuare così anche questa settimana per cui come sapete so from the mythical window with the orange red the blue green water curtain and it's green roller shooter behind me on the top not visible in factor in the shot and finally from the mythical keyboard amati gx 640 ipg ipg 625 and finally we have a great day in the world people follow the channel the reports un saluto davvero a tutti and also i hope you will have a great breakfast io la farò tra poco il mio stomaco brontola come sempre non so se lo sentite e soprattutto spero che vi possiate consolare se dalle vostre parti il tempo del stesso e brutto rispetto a qui non che non ci consideriamo sempre con la colazione ma quando il tempo è brutto io mi consola ancora di più tra l'altro le due parole consolazione e colazione in italiano fanno anche rima I'll see you in the video toots or tomorrow